Oh ragazzi, allora, buona giornata a tutti. Siccome molti di voi mi avete chiesto cosa pensassi di Buffon, che ieri di marzo li ho portato di Buffon, intanto, piccola parentesi, non dirò nulla sull'articolo del Corriere dello Sport, di Pogba, dell'Adidas, perché non ho riscontri, perché non mi fido più della stampa cartacea, ecco, e mi fido solo di Romeo Gresti e di Marzio, tutti gli altri non li cago più. Comunque, parentesi chiusa, allora, cosa penso io di Buffon? Allora, dopo il suo addio, che penso sia stato l'ultimo giocatore per il quale io abbia versato qualche lacrima, quindi non è neanche un addio in teoria, sono diventato veramente pragmatico al 100% per quanto riguarda i calciatori singoli. Cioè, se torna, ok, a me, mi interessa relativamente, ok, perché, perché vi dico, allora, Perin, intanto, si starebbe aspettando la cessione di Perin o alla Roma o al Siviglia per formalizzare il ritorno di Buffon alla Juventus. Ma, di fatto, cioè, per Perin non so quanto prenderesti, non so, 15-20 milioni, adesso non so veramente. Però, per prendere un secondo portiere dovresti spendere quella cifra, e quindi calcolando e conoscendo bene la Juventus come lavora, è normale che, insomma, diciamo, tenterà di fare una posvalenza. Anche per, magari, risparmiare dei soldi e andargli poi a investire su un terzino, su un centrocampista o su, appunto, dell'It. E quindi risparmiando il cartellino del secondo portiere. Perché il secondo portiere, ripeto, deve essere un over 30, non può essere un under 30, perché l'under 30, giustamente, pretende di giocare. Anche alla Juventus. Quindi, sicuramente, ok, che poi, calcolando che con Sarri, secondo i portieri, non è che giochino così tanto, Buffon potrebbe essere un motivatore in più. Uno che porta esperienza all'interno dello spogliatoio. Qualcuno ha detto anche che potrebbe mettere ulteriore pressione a Schessing, ma non è vero perché sono vici. Potrebbe aiutare anche Sarri in certe situazioni e, per me, più che secondo portiere, sarà un vice allenatore, Buffon. Quindi, per questo... E poi ci sono, appunto, i valori, vabbè, a 41 anni, per carità, e questo poco mi assicuro. Poi, secondo me, questo anno al Paris Saint-Germain li ha fatto bene. Nel senso che si è reso conto di aver fatto una cazzata, si è reso conto che forse sarebbe stato più opportuno accettare subito il ruolo da secondo portiere per poi entrare in dirigenza. Ha fatto una scelta professionistica e professionale, quindi non c'è nulla da discutere su quello. Ha fatto una scelta. Non ha sparato mai merda sulla società, cosa che hanno fatto altri, anche con videomessaggi, insomma, come Del Piero, purtroppo, come anche lo stesso Conte. Ha detto queste cose... Cioè, ha fatto questa cosa qui, si è reso conto che al Paris Saint-Germain, quindi per questo dico che gli ha fatto bene questa esperienza, e a quei livelli lì, ormai, primo portiere non può più esserlo, quindi o va in Cina o si è contenta di fare l'ultimo anno da professionista secondo portiere, come secondo portiere, alla Juventus per poi entrare in dirigenza. Perché questo è quello che ha proposto la società ed è questo che Buffon avrebbe accettato. Quindi, per me, per me, eh sì. Cioè, nel senso che non mi interessa relativamente, però non vedo neanche questo disastro come molti fanno passare, ma adesso abbiamo fatto una festa a Dio per niente, ma sinceramente l'ultima da titolare era la scorsa stagione, quindi può essere anche interpretata così. Poi, non voglio giustificare nulla, nessuno, è stata una festa a Dio. Abbiamo giustamente omaggiato un grande portiere, adesso, quest'anno, qualora tornasse, perché non è detto ancora perché di fatto si parla di Rabiot, di Elite, di Pogba, di Buffon, però di fatto, e anche di Demiral, di fatto in questo momento ufficialità zero. Ufficialità zero. Poi, ovviamente, farò un video apposito su Buffon se verrà ufficializzato. E quindi non voglio entrare troppo sui dettagli, però questo è, ragazzi. Nei dettagli, non sui dettagli. Questo è, ragazzi. Quindi, ripeto, non trovo scandaloso, sbagliare può capitare a tutti, non ha mancato il rispetto a nessuno, a tifosi, a società, a nessuno, secondo me. Ha fatto una scelta professionale, si è reso conto che ha fatto una cazzata, un errore, torna alla Juventus facendo il secondo portiere e basta. Per me, qui si può chiudere tranquillamente il capitolo Buffon. Detto questo, per quanto riguarda l'Elite, di marzo ieri ha detto che le prossime 24 ore potrebbero essere decisive. Quindi, questo dimostrerebbe, quando ho detto, quando mi era stato riportato di Manolas, che la Juventus si era tirata indietro per Manolas, ho detto, di fatto, sotto c'è qualcosa per forza. Infatti, la Juventus, cioè, anche lì, in Napoli sarebbe un piano B per Manolas, perché la Juventus, se avesse voluto veramente, l'avrebbe già preso da Mo. Quindi, però, poi, infatti, Manolas non l'ha preso. Poi, vedremo se riusciremo a chiudere questa operazione d'Elite, però, di fatto, perché hanno puntato tutto su d'Elite. Più giovane, come le infortuni, perché molti napoletani fanno passare il colpo a Manolas come il colpo del secolo, praticamente. Ma Manolas ha tanti infortuni. E lo dicevo quando era accostato da Juventus. Manolas è un punto di domanda, secondo me, perché se si fa male lui, gioca un altro anno, un'altra metà stagione, con Maximovic e Colibali. Ok, perché Colibali per me non va via quest'anno, il prossimo anno sì, però ricordiamoci che comunque Colibali va per i 29 anni. Non è più giovanissimo. Quindi, nel senso che, comunque, o quest'anno o il prossimo anno va via sicuramente, perché se non vince un cazzo con Napoli, anche lui vuole napoletanità o meno, i napoletani non capiscono che questi discorsi sono proprio per fare stare buoni tifosi, ma di fatto i giocatori guardano anche il proprio palmares e la propria carriera, quindi come stipendio, ma anche come trofei. Quindi, se non vincono un cazzo con Napoli, è giusto che vogliano andare via. Come se un giocatore, dopo anni che vince l'Italia con la Juventus e non vince la Champions, può avere la necessità di andare in una squadra che per lui ha più possibilità di vincere la Champions League, insomma. Infatti, io non ho certe dichiarazioni, le avrei evitate, però non ho mai messo in discussione alcune scelte di alcuni giocatori, nemmeno di Vidal, sinceramente, vabbè, lo sfottò, ci sta, però. È una scelta logica, razionale, da professionista, insomma. Però, vabbè, l'Elite comunque ha detto di marzo, le prossime 24 ore potrebbero essere eccesive, l'ha detto ieri sera, quindi potrebbe questa essere la giornata eccesiva. La domanda principale è, ma allora, prima del 30 giugno ci potranno essere ufficialità, o bisognerà aspettare il primo luglio? Questa è la domanda per il discorso del bilancio. Se chiudono oggi, ufficializzano oggi, effettivamente non conta un cazzo il bilancio. Bisogna anche vedere, però, anche Cansello, perché Cansello sarebbe in uscita. Anche lì parlano di Quadrado o di Sciglio come terzini destri. A quel punto, ripeto, preferirei Spirazzola a destra, più che quei due. Però, vabbè, Cansello, purtroppo, ripeto, l'ha rovinato Allegri, però, vabbè, per questo va via solo 50 milioni. Ci sono tante situazioni da verificare, da vedere, perché non si sa, alla fine, quale sarà la trattativa che si concluderà per prima, cioè, o la cessione di Cansello o di Perin, o l'acquisto di qualcuno, non si sa. Molti ipotizzano per il bilancio, dovremo per forza prima cedere e poi comprare, bisognerà per forza aspettare il primo luglio. Non lo so, per Abbiò sì, il primo luglio, per un discorso di rispetto nei confronti di Paris Saint-Germain, per chiudere il contratto il 30 giugno e poi firmare il primo luglio. Quello è l'unico giocatore per il quale posso ritenermi sicuro che andrà così. Però per il resto, per gli altri giocatori, sono tutte ipotesi, teorie, di bilanci, di cose varie, però di fatto non abbiamo la certezza su nulla, perché magari oggi la Juventus si sveglia e decide di ufficializzare Delete, quindi il discorso sul bilancio se ne va a farsi fottere. Poi magari è vero, firmano oggi, però ufficializzano Delete il primo luglio oppure lui. Può andare anche così, per carità. Vabbè, questo è quanto ragazzi, queste erano le ultime due novità su Pogba e Delete, soprattutto. Fatemi sapere la vostra cosa ne pensate del ritorno del probabile, il ritorno di Buffon. Pogba ho detto, perché ho detto Pogba? Vabbè, e ovviamente sulla chiusura che potrebbe avvenire in questa giornata per Delete. Tutto lì, ok? Buona giornata a tutti e sempre e comunque, fino alla fine. Forza Juventus!